L'ennesima giovane vita stroncata sulla strada, ieri sera a Caselle d'Altivole, dove è morto Cristian Vidotto, 18 anni, di signoressa di Trevignano. La procura di Treviso ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo nei confronti dell'amico del giovane, che si trovava al volante della Golf su cui sedeva Cristian. Il 18enne si trovava sul lato del passeggero, dietro un terzo amico. All'altezza di San Vito, lungo un tratto rettilino di via Brioni, il conducente ha perso il controllo dell'auto. I primi residenti intervenuti in soccorso dei tre ragazzi hanno parlato di un proiettile finito contro i pali dell'illuminazione. Oggi si vedono ancora gli effetti, l'auto si è ribaltata, Cristian è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, rimanendo schiacciato dalla vettura. Per lui, morto praticamente sul colpo, ogni soccorso era ormai inutile, feriti in maniera lieve gli altri due ragazzi. Sull'asfalto i segni della lunga frenata tentata dal conducente. I tre ragazzi, che avevano frequentato l'Ipsia Scarpa, erano accomunati dalla passione per il calcio. La vittima giocava nel Fulgor Trevignano, i due amici nell'Altivolese. Ieri erano reduci da una giornata di sport. A Villa d'Asolo, le ultime ore spenserate prima del dramma.